Buon pomeriggio mondo, buon pomeriggio Messina, buon pomeriggio a tutti voi cari amici vicini e lontani del Discover Messina Sisimi. Eccoci qua, buon mercoledì 18 marzo a tutti. Allora, come sapete, dal 10 marzo scorso abbiamo aderito alla campagna Io resto a casa. Ma per noi restare a casa non basta. Sentiamo urgente il bisogno di fare qualcosa di più. E questo qualcosa di più può essere intanto creare, mantenere e coltivare con tutte le nostre forze, con tutta la nostra passione, tutte le nostre relazioni. Le relazioni che abbiamo con voi, quelle che già esistono e quelle che cercheremo di costruire insieme. Perché abbiamo bisogno di sentirci tutti più uniti e tutti un po' meno soli. E allora noi di Discover Messina abbiamo una sorpresa, perché non ci vogliamo staccare dai nostri amici e dai nostri simpatizzanti e anche da chi entra nel nostro mondo per la prima volta. E allora abbiamo deciso di fare una cosa semplice. Almeno per qualche minuto al giorno farci compagnia. Parlando e raccontando quanto di bello esiste nella nostra storia e nella memoria della nostra terra di Sicilia. Quindi non spreghiamo questa occasione, seguiteci, seguiteci, seguiteci. Iscrivetevi al nostro profilo YouTube per restare sempre aggiornati, perché ogni giorno saremo con voi. E non dimenticate di mettere un like. Quindi mettete i vostri like, perché per noi sono molto importanti. Allora, che ne dite? Ci facciamo un po' di compagnia? Bene, oggi abbiamo scelto una storia da leggere. E dovrò abusare pure della vostra pazienza, perché sarò io a leggervela a voi. E quindi è una storia bella, una storia intrigante. Un omaggio a tutti quegli eroi ed eroine che là fuori, per strada, dentro gli ospedali, si stanno battendo per noi. E soprattutto la vogliamo dedicare ai malati gravi, a quelli che combattono per la vita. Perché hanno voglia di vivere ancora. Ma prima di iniziare a leggervi questa bella favola, voglio usciarvi un pensiero di Joseph Campbell, che ci ricorda come tutti noi, in questa vita, possiamo essere eroi. E dice così, un eroe è un normale essere umano che fa la migliore delle cose nella peggiore delle circostanze. Bene, allora, passiamo alla nostra lettura. Eccoci qua. Anziate pazienza, della mia lentezza. Allora, vi siete mai chiesti quale sia l'esempio perfetto della devozione dell'uomo a una causa più grande di lui? Nicola, da Messina, era un giovane siciliano, figlio di pescatore, soprannominato Colapesce, per la sua capacità di muoversi come un pesce nell'acqua. Sguazzava, con rispetto, fra i flutti, e la sera raccontava ai pescatori, ai suoi coetanei curiosi, le meraviglie sepolte sui fondali. Un giorno giunse in città Federico II di Sveglia, con la sua corte. La fama del ragazzo era tale che si favoleggiava che fosse dotato persino di branchie e pinne. Di certo aveva dalla sua la parlantina. La capacità di affascinare i suoi ascoltatori narrando di grotte e mostri marini, di delfini, murene e ogni tipo di pesce nascosto in profondità. Così il sovrano, incuriosito, prese una coppa d'oro e la lasciò cadere in mare, ordinando a Colapesce di recuperarla. E lui eseguì, senza pensarci due volte. Venne la notte, le facce si fecero scure e si temette il peggio. Ma il ragazzo riemerse, portando con sé la coppa trionfante. E il re lo sfidò da capo, gettando la propria corona zeppa di pietre preziose, lasciando che affondasse in mare sino a scomparire dalla vista dei curiosi assiepati lì intorno, prima di ordinargli da capo. Va, va con la pesce, valla a prendere. E lui obbedì. Giunse l'alba, trascorse un giorno e un altro ancora sul rogliio delle barche in mezzo allo stretto, in attesa che tornasse e con il timore che fosse già troppo tardi. Forse persino il sovrano aveva chiesto troppo al giovane Nicola. Ma lui riemerse. E benché stremato, chiese subito di parlare al proprio re. Ciò che aveva visto l'aveva molto turbato. Ebbene, con la pesce aveva visto che laggiù, nelle profondità, la Sicilia stessa poggiava su tre colonne, grandi come montagne. Per ciascun vertice, ma una di queste era crepata, segnata dal tempo, gravemente pericolante. Tutta l'isola sarebbe presto sprofondata. Che fare, dunque? Il re scellerato gli chiese un'altra prova. Lanciò un anello d'oro in acqua e gli ordinò di recuperarlo. Era la prova fatale. Con la pesce accettò. Come poteva non farlo? Ma prima di svanire, prese una manciata di lenticchie e disse «Sire, se non riuscirò a tornare in superficie, lascerò tornare a galla queste lenticchie e voi capirete il mio destino. Ciò detto, scomparve». Passarono i giorni finché un ribollire delle acque annunciò che il destino di con la pesce si era compiuto. I legumi erano riemersi e di lui non vera più traccia. «Che ne è stato del ragazzo prodigio? Con la pesce si è sacrificato. Ora tocca a lui sorreggere la terza colonna e tenere in vita la Sicilia». Bene. Allora, a conclusione di questo racconto, un'altra citazione di un personaggio a noi tutti molto caro, un siciliano, un siciliano come noi, che in questo momento secondo me è molto, molto significativa. non sono né un eroe né un kamikaze, ma una persona come tante altre. Temo la fine perché la vedo come una cosa misteriosa. Non so quello che succederà nell'aldilà, ma l'importante è che sia il coraggio a prendere il sopravvento. Se non fosse per il dolore di lasciare la mia famiglia, i miei cari, i miei amici, le persone alle quali sono più legato, potrei anche morire sereno. Paolo Borsellino Bene. Per oggi è tutto, cari amici. Vi lascio. Ecco qui. Vi ricordo sempre la nostra discover Messina Sicili. Vi ricordo i vostri like. Seguiteci nella nostra pagina. Un caro saluto a tutti. Un bacione grande e un buon proseguimento di giornata. A domani.